Serve un mercoledì da Leoni per la Nissa, domani nel turno infrasettimanale del campionato di eccellenza, una sfida che potrà dire tanto sulle ambizioni della squadra biancoscudata di accedere agli spareggi per la promozione in Serie D. La squadra di Mr. Bognanni, reduce dall'ottimo pareggio sul campo dell'Unitas Schacke, anche se continua la penuria di gol che va avanti da dicembre, occupa la quinta posizione in classifica a pari merito con la Mazzarese, che però vanta una migliore posizione per via della differenza reti e dello scontro diretto dell'andata in casa dei biancoscudati, finito in parità. L'avversario di turno è il profavara, autentico mattatore di questa fase di campionato, che vanta ben 10 risultati utili consecutivi ed occupa il quarto posto della graduatoria. Tante le vittime eccellenti della squadra grigentina, che annovera tra le proprie file giocatori di grande qualità tecnica, come l'attaccante Gambino, che sabato ha messo a segno una doppietta, e l'esterno offensivo senegalese Passaue, una sorta di carro armato inarrestabile sulla fascia che riesce spesso a trovare la via del gol. Una trasferta, insomma, difficile per i biancoscudati, ancora alle prese con giocatori acciaccati che vanno in campo grazie alle infiltrazioni, e stiamo parlando di Retucci, Santoro e Caronia. Insomma, ci sarà da stringere i denti. Mister Angelo Bognanni potrebbe fare affidamento sin dall'inizio sull'attaccante esterno uruguaiano Guilermo Rizzi, entrato domenica a Sciacca, pochi minuti dalla fine, e che ha ben impressionato sfiorando anche il gol del vantaggio. Una sconfitta è dunque da evitare a tutti i costi, perché potrebbe pregiudicare il cammino dei biancoscudati verso i play-off. Contro la squadra, che dopo il Canicati è sicuramente la più in forma del campionato, bisognerà dunque fare di necessità virtù per uscire imbattuti, cercando anche il colpaccio.